questo sicuramente appartiene al nostro sistema come appartiene a tantissimi altri sistemi tuttavia quello che lo rende veramente unico anche all'interno della comunità generale delle arti marziali ma anche rispetto ad altri sistemi di Wing Chun non è soltanto la parte storica ma la particolare attenzione a quella che viene definita appunto la massima efficienza cioè lo sviluppo tecnico e teorico di tutti i metodi di coltivazione legati a buddismo Chan e i suoi metodi di sviluppo fisico che vanno un po' in contrasto con quelli che sono i cliché, i canoni classici del corpo di un artista marziale quindi non ci interessa molto la ricerca dell'atletismo o del ragazzotto di 20 anni che fa tutti i muscoli e poi fa i combattimenti per prevalere ma quello che ci interessa è costruire dei corpi ma soprattutto delle menti, degli spiriti che abbiano delle competenze che vadano ben al di là della semplice scazzottato delle semplici competenze da sviluppare nella parte sportiva Sicuramente questa disciplina ha avuto la fortuna di sopravvivere a una divulgazione molto difficile nel momento in cui l'ultimo capo istruttore di questa loggia si trasferisce dalla Cina in Indonesia dove il governo proibì l'utilizzo dei caratteri cinesi e quindi per fortuna abbiamo ereditato tante tante cose ma purtroppo dall'altra parte non abbiamo ereditato la parte scritta formale Grazie! Grazie!